Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020. Siete sul canale 17 di Fano TV, partiamo subito con i giornali, prima con il santo e poi con le previsioni del tempo. Andiamo subito a vedere il santo di oggi, è San Lorenzo Giustiniani, il sole sorgerà alle 7.41, tramonterà alle 16.48. Il tempo avremo oggi, cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione Marche, qualche nube bassa in mattinata e le temperature in aumento nei valori minimi, ma saranno in diminuzione quelli massimi. Per domani giovedì 9 gennaio, attenzione alle possibili gelate, nottetempo al primo mattino, specie nei fondovalle. Per il resto non c'è granché da dire, così come venerdì 10, quando avremo ancora cielo sereno o poco nuvoloso sulla regione, ma con gelate, quindi temperature fredde, soprattutto alla notte, al mattino, specie nei fondovalle. Tempo stabile anche nel fine settimana. Ancora tante pagine, pagine che si occupano della tragedia di Elisa e Sonia, le due donne di Colli al Metauro, che sono state travolte e uccise da un autotrasportatore 47enne, un camionista, che la notte del 6 gennaio, la notte della Befana, era in strada, anche lui era uscito dalla discoteca di Senigallia e le ha investite. Ci sono anche le sue dichiarazioni questa mattina sui giornali, che andiamo subito a leggere, ma l'apertura del Corriere Adriatico di questa mattina di Pesaro è per la politica, le regionali con Zingaretti del PD che convoca Ceriscioli. Il passo indietro forse è più vicino, ieri c'è stato un incontro a Roma, il segretario del Partito Democratico è molto preoccupato per la questione politica nelle Marche. E poi a centro pagina la fotonotizia con il luogo dell'incidente e un virgolettato. è una delle tante frasi scritte ieri mattina dagli alunni di Elisa Rondina, una delle due vittime, maestra, eri troppo giovane per morire. C'è stato ieri il ritorno in classe, appunto, dopo le vacanze di Natale, il dolore nei loro messaggi. Sempre in prima pagina, ho ucciso io mia nonna, nipote, confessa l'omicidio. Siamo a Macerata Feltria dove aveva, dove era originaria questa donna di 88 anni che colpita appunto dal nipote, le ha ficcato praticamente un dito in un occhio, questa donna di 88 anni, anziana, è caduta ed è morta. Lui ha confessato, lui è nipote, Alessio Berilli, di 42 anni, che poi è stato arrestato dai carabinieri di Riccione, ora è agli arresti però in psichiatria. Fotonotizia anche per il resto del Carlino, non posso perdonarlo, parla il papà di Elisa Rondina, non posso perdonarlo, questo è il titolo, mentre vedete nella fotografia Massimo Renelli, l'uomo arrestato per aver travolto ucciso Sonia Farris nel riquadro, lei è Sonia, e Elisa appunto rondina. L'uomo distrutto dal dolore, scrive ancora il resto del Carlino, quello là doveva essere fuori di testa per non vederle, dice appunto il papà di Elisa, intanto pare che le due donne stessero attraversando la strada, spunta anche un testimone. Anche il resto del Carlino di Ancona pubblica la fotonotizia in apertura con il virgolettato, le parole del papà di Elisa, non posso perdonarlo, falciate uccise da un ubriaco, le due foto che vedete campeggiare in primo piano. Mentre Macerata apre con l'inaugurazione del campus alle casermette, siamo sempre in zone terremotate, la nuova viabilità supera l'esame. Le amiche stavano attraversando, siamo nelle pagine interne del resto del Carlino, io non mi sentivo alterato, ha dichiarato in questa prima ricostruzione, ci sono i dubbi della Procura, la difesa che comincia a pronunciare le prime frasi, accertato però che l'investitore aveva un tasso alcolico quattro volte superiore al limite consentito per mettersi alla guida. Al vaglio adesso anche il suo cellulare e il test antidroga. Massimo Renelli stava, lo ricordiamo, alla guida della Fiat Punto, le ha travolte, le ha scaraventate sul campo oltre il guardrail. Lui dice che, secondo lui, stavano attraversando, ci sono i rilievi, chiaramente ancora è tutto da stabilire, anche la dinamica precisa, esatta. La Fiat Punto però è stata trovata ferma dalla polizia stradale ad almeno un chilometro di distanza rispetto al punto in cui le due donne sono state investite. Lì Renelli si sarebbe fermato stando alle prime dichiarazioni fornite agli agenti dopo aver sentito un grande botto mentre procedeva alla guida della sua vettura. Il buio gli avrebbe impedito di vedere cosa aveva urtato. Ma c'è una testimonianza che tra l'altro è pubblica perché è stata scritta sui social. E così è stato descritto questo incontro con l'investitore. Erano circa le 4.40, era freddo e buio, buio pesto. Noi abbiamo incrociato la persona che ha investito Elisa e Sonia, era fermo con la macchina, con le quattro frecce accese, in un piccolo punto dove si poteva sostare, fuori dall'auto con le mani in tasca, immobile. Attendeva la polizia, è stato lui a chiamare. Noi non potevamo sapere nulla, ignari dei corpi nel campo, ignari della tragedia appena accaduta. Abbiamo continuato dunque per la nostra strada. Quella sera nel locale poco prima aveva incontrato Elisa, una delle vittime, l'ho salutata da lontano e mi sono detta gli auguri glieli faccio un'altra volta. Questione di minuti, di secondi, di attimi. Potevamo essere noi, o tanti di noi, al loro posto, in quel luogo sbagliato, nel momento sbagliato, prosegue nel post scritto su Facebook. L'auto parcheggiata lontano, la strada stretta, una distrazione, l'alcol, la velocità, la voglia di ballare, di divertirsi di due giovani donne, che però finisce in tragedia. Intanto, a proposito di Facebook, tanti insulti, tante condanne, anche durissime, nei confronti dell'investitore, condanne scritte sulla pagina, sul profilo Facebook del 47enne autotrasportatore. E c'è adesso chi chiede di non sputare sentenze, comunque veleno, che non serve a nulla, anche per rispetto alla sua famiglia, e della sua famiglia, invita a chiudere la pagina, almeno temporaneamente. E questo è il resto del Carlino. Il Corriere Adriatico, anche qui, punta sul fatto, su questa prima dichiarazione di Massimo Renelli. Pensavo di essere lucido, non mi sentivo ubriaco. Donne travolte uccise, Renelli parla con l'avvocato, linciaggio social, ma c'è chi difende l'investitore di Senigallia. Oggi c'è l'interrogatorio del conducente, domani l'autopsia sulle amiche uccise. Intanto lo smartphone è stato sequestrato dalla polizia stradale insieme alla Fiat Grande Punto del 47enne, che ora è al vaglio degli inquirenti, coordinati dal PM Ruggero di Conso, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo aggravato. C'è da capire se, oltre che ubriaco, l'automobilista stesse utilizzando il cellulare alla guida. In tal caso potrebbero non essere stati solo l'alcol, il buio o forse la velocità a causare la strage. L'altro nodo da sciogliere riguarda l'eventuale assunzione di stupefacenti. La verità emergerà solo dall'esito degli accertamenti tossicologici, che richiedono comunque più tempo. Renelli è stato subito arrestato, si trova ancora nelle camere di sicurezza della questura di Ancona. Il papale di Elisa, qui c'è la dichiarazione, non la dichiarazione, è stata raccolta, insomma, un po' parlando con il papà, un po' lo stato d'animo, quello che prova, che sta provando in queste terribili ore, il papà di Elisa Rondina, 43 anni, lo ricordiamo, insegnante delle elementari a Tavernelle. Per non vederle, dice il papà di Elisa, quell'uomo doveva essere veramente fuori di testa. Ieri è andato il papà di Elisa a Senigallia per recuperare la sua automobile, gli effetti personali, era una brava ragazza, dice il papà, amava il suo lavoro, stava per diventare zia, non meritava una fine così. Non lo so cosa provo, dice ancora, per quell'uomo. Certo c'è della rabbia, di questo sono sicuro, perché sono andato sul posto e per fare un volo del genere non andava di certo piano. La strada è stretta, poco luminosa, è vero, ma mia figlia aveva la torcia del telefonino accesa per farsi vedere, così almeno mi è stato riferito. Lui, riferendosi al camionista, per non vederle sicuramente era fuori di testa. C'è tutto il racconto poi che potrete vedere e leggere sul giornale di questa latina. Intanto anche i familiari di Sonia, invece Sonia Farris, la vedete qui con gli occhiali, l'altra vittima di 34 anni, raccontano, salutano con foto e immagini di felicità la sorella, perché in questo caso è il fratello e la sorella di Calcinelli che hanno deciso di salutare, di parlare di questa sorella che non c'è più attraverso i social, hanno deciso di ricordarla attraverso Facebook, cambiando l'immagine del profilo che ora li mostra sorridenti accanto a lei, con i sorrisi, l'allegria, insomma, hanno deciso di urlare al mondo il loro dolore in questo modo. Sempre sulla pagina del resto del Carlino, l'altro fronte, quello dei gestori della discoteca Megà, nella quale erano andate appunto a festeggiare e a ballare e sulla questione del parcheggio, sulla questione dei posti auto, beh, loro, i gestori, non si difendono, ma comunque dicono a loro e dico a proposito delle auto in sosta praticamente ovunque, anche lungo la strada, dicono non è compito nostro. Come dire, la gente, noi ci occupiamo del parcheggio e se la gente parcheggia lungo la strada e in altri posti non possiamo farci nulla, non spetta a noi dire infatti lì non puoi parcheggiare perché non ne abbiamo l'autorità. Noi controlliamo che nel parcheggio non ci siano persone che consumano alcolici, che non li introducono nel locale dove mettiamo un apposito braccialetto che non si sfila a meno che non venga tagliato ai maggioreni. Insomma, le persone ubriache raccontano ancora i gestori vengono assolutamente allontanate, alle persone che mostrano sintomi dovuti all'abuso di alcol viene sospesa la somministrazione di alcolici. Inoltre, li invitiamo ad uscire dal locale e ci rendiamo disponibili a chiamare qualcuno che guidi la loro auto o se qualcuno accusa malore chiamiamo un'ambulanza. Dal Corriere Adriatico invece i messaggi di cordoglio, di saluto soprattutto per Elisa che faceva la maestra e quindi dei bambini dei suoi alunni eri troppo giovane non dovevi morire gli strazianti pensieri appunto degli alunni delle classi della maestra Elisa. Cara maestra scrive uno di loro vorrei dire a tutti che ora che non ci sei più per favore state attenti con le vostre macchine mi ricorderò per sempre di te così Matteo per esempio della quinta elementare ha ricordato la maestra quando ieri mattina è tornato in classe insieme ai suoi compagni e non ha trovato l'insegnante salutata prima delle vacanze di Natale e poi anche saluti messaggi fiori piante davanti al negozio di parrucchieria calcinelli ciao angelo mio ora danza libera come piaccia a te le stringere le mani io capivi era speciale insomma Sonia Farris la vedete in questa fotografia sempre sorridente si è parlato anche di questo suo sorriso contagioso amava la danza eccetera eccetera si parla anche della strada nel nel corriere di oggi la strada dove è teatro di questa tragedia fossi curve torce in mano ecco la strada della morte le trappole dell'arceviese pedoni e bettolelle quando la discoteca è aperta e l'asfalto è una roulette una vittima nelle marche ogni quattro giorni e si continua dunque a morire sulle nostre strade meno che in passato ma non può essere una consolazione sono gli ultimi dati ufficiali dell'Istat riferiti al 2018 anche il resto del Carlino torna sul luogo dell'incidente non si può morire così siamo sul Carlino di Ancona residenti e cittadini nel tempo chiedono interventi per la sicurezza della zona gli incidenti sono quotidiani ma se ne parla solo quando c'è una tragedia e poi da Fossombrone invece via le chiavi dell'auto perché è ubriaco ma lui si arrabbia si tratta di un 24enne e aggredisce i carabinieri ed è stato ovviamente arrestato sempre a Senigallia un ubriaco alla guida macchina sequestrata denunciato dai carabinieri un 35enne di Montemarciano che viaggiava con un tasso quattro volte superiore a quello consentito e poi l'altra notizia invece di Cronaca che è una tragedia che si è consumata a Riccione però la vittima questa donna di 88 anni era nata a Macerata Feltria dove era partita molti anni fa un nipote che ha aggredito la nonna a pugni lei cade picchia la testa appunto e muore lui ha 42 anni schizofrenico è stato arrestato per omicidio la vittima invece Rosa Santucci era nata a Macerata dove appunto era però si era trasferita molto tempo fa mia nonna è finita a terra e non si rialza ha detto ai soccorritore aiutatemi l'uomo ha chiesto aiuto ai vicini di casa l'addio a Paolo Piccoli invece a Pesaro la canotta della squadra di basket VL sulla sua bara ieri c'è stato il funerale del 43enne stroncato da un infarto la notte di Capodanno il parroco ha detto oggi facciamo noi il tifo per lui però con la preghiera c'erano tra l'altro sui banchi della chiesa Zampolini Costa Stefano Cioppi Luciano Amadori e Elio Giuliani droga e alcol un arresto e due denunce ve l'abbiamo appena accennata la notizia poco fa da Fossombrone un giovane che aveva bevuto troppo i carabinieri gli ritirano la chiave dell'auto ma vengono aggrediti prima le manette poi l'obbligo di non uscire di notte da casa neguai un barista che serviva anche gli ubriachi il cane entro i doghi capite perché poi dopo non è le responsabilità sono sempre tante anche un barista che vede uno che è già ubriaco due schiaffoni bisognerebbe dargli a questo barista oppure dirgli adesso vai a casa fai un altro mestiere perché non si può cioè capito quando vedi che un ubriaco è già ubriaco perché gli devi dare devi continuare a dare da bere per un euro due euro il cane antidroga scova due grammi di cocaina addosso ad un 32enne per lui l'accusa di spaccio e poi si parla del magico natale che ha tirato pubblico e fatto sorridere i negozianti siamo a Fossombrone il sindaco e la Proloco sono soddisfatti dell'affluenza di visitatori suggestivo anche l'allestimento che come vedete è caratterizzato soprattutto da queste lanterne illuminate costruite ad hoc guardate invece la fotografia di questo carro allegorico che presto vedremo sfilare su Vielle Gramsci al prossimo Carnevale di Fano è il carro di Mauro Chiappa non so se riuscite a riconoscerla è Greta Thunberg che è l'ambientalista la piccoletta la ragazzina che gira il mondo e che ha ispirato appunto Mauro Chiappa Barbie Greta e la Carnevalesca scrive proprio a lei una lettera per farle conoscere l'impegno della manifestazione fanese sul tema dell'ambiente manifestazione che ricordiamo sarà in programma con le tre domeniche del 9, 16 e 23 di febbraio poi si parla di traffico e polemiche a Fano in Gorgo in via a Girolamo da Fano esplode la protesta dei residenti mentre dal Corriere Adriatico sì ai nuovi stalli a pagamento con gli autobus snavetta in zona mare l'apertura alla giunta da parte di confesercenti dopo le prime polemiche oggi invece c'è un incontro con tutte le categorie questa è l'area del parcheggio dove un tempo c'erano i carri del carnevale dello sferisterio che oggi sono liberi sono con le strisce bianche ma che presto arriveranno si coloreranno di blu e dunque diventeranno a pagamento ma il presidente Ciuccoli contesta al comune la mancata concertazione prima di assumere l'atto e ancora andiamo a vedere l'altra pagina del Corriere esposto al prefetto Cecchetelli finisce nel merino non è imparziale ed equa nelle funzioni dicono Luca Serfilippi Lucia Tarset Tommaso Mazzanti che per le minoranze sono state ricevute dalla Polla il prefetto di Pesaro Rubino che dunque avvia una istruttoria per vedere se c'è stata questa scorrettezza istituzionale mancanza di buona fede e carenza nelle funzioni di garanzia assegnata alla presidenza del Consiglio Comunale potrete leggere insomma tutti i particolari in questo in questo articolo di Lorenzo Furlani sono stati contestati l'apertura dei lavori in mezz'ora prima nel Consiglio del 19 e l'ordine del giorno un uomo ha rubato una bici davanti alla serie dei vigili della polizia locale di Fano è stato arrestato è l'impresa di un giovane immigrato che ha fatto scattare le manette per resistenza 4 tonnellate di rifiuti il bilancio invece di Puliamo Fano chiuso con questo risultato il 2019 al gruppo si aggregano anche i ragazzi di Free Days o Fridays for Future questo è il titolo sempre sulla pagina di Fano del Corriere sotto invece 100 volontari sempre in prima fila il gruppo CB Club Mattei Perno della protezione civile in questo articolo il Corriere parla di tutte le attività svolte durante l'anno appunto dai volontari del CB Club bimbi e asili scocca l'ora dell'iscrizione siamo sempre a Fano c'è tempo fino al 31 di gennaio a comunicarlo l'assessore servizi educativi Samuele Mascarini ecco le modalità da seguire domande soprattutto da inoltrare online oppure da presentare negli uffici competenti poi sotto si parla ancora di volontari di pulizia di ecologia e ambiente volontari armati di entusiasmo ripuliscono la spiaggia dai rifiuti mentre sempre a proposito di ambiente di aria che respiriamo scoppia la polemica e 5 stelle lanciano l'allarme chi ci tutela dalle polveri sottili e questo è un altro problema sul quale non si può sorvolare più di tanto e siamo sulla pagina di Fano e il problema riguarda appunto la nostra città noi giovani invece torniamo a parlare di politica continua il suo percorso dopo l'orientamento di Seri verso Italia Viva di Matteo Renzi si sviluppa dunque il dibattito ma la lista sembra tirare dritto e dunque c'è un cambio al vertice innanzitutto di noi giovani Fabiola Tonelli ed Edoardo Carboni lasciano rispettivamente il ruolo di presidente segretario a Tonelli nel frattempo nominata assessora alla qualità urbana dovrebbe subentrare l'ex consigliere comunale Mattia De Benedittis mentre il posto di Carboni attuale consigliere comunale lo dovrebbe prendere Matteo Ciaschini per quanto riguarda invece Urbino un milione di euro all'Accademia per creare nuove classi e laboratori il presidente Londei dice grazie al sindaco Gambini potremo usare le ex officine comunali e risaneremo il parcheggio i nuovi lavori garantiranno spazi all'istituzione artistica che è risultata quella con il maggior finanziamento in Italia e sul liceo Raffaello Aule in via Oddi che sono state consegnate ieri ma sui bagni pubblici sempre da Urbino la questione è sempre aperta e sono impresentabili ci sono proteste per le condizioni di quelli a Valbona e al Monte quelli nuovi sono ancora un cantiere aperto e soprattutto si parla di questi bagni pubblici che insomma sono un brutto spettacolo soprattutto per i tanti turisti ne abbiamo parlato proprio ieri durante le feste di Natale tantissimi hanno visitato questa bella città non solo hanno delle necessità i turisti non devono tornare a casa con certi brutti ricordi vi è invece a Pesaro la ruota panoramica viene smontata in queste ore arriva la cena ad alta quota è stata smontata la struttura di Largo Aldomoro i gestori dicono il posto non era granché il comune sta pensando ad una piattaforma sospesa a 50 metri dove mangiare adesso magari qui non c'è la fotografia non tutti possono immaginarsi di che cosa stiamo parlando vi faremo magari vedere anche in un servizio che prepareremo per il telegiornale che cos'è questa cena sospesa ci sono delle bellissime immagini che potrete trovare su internet ma può essere suggestiva una bella una bella iniziativa il sindaco ha annunciato il possibile montaggio di una questa nuova macchina Baia Flaminia o fra i due porti mentre andiamo velocemente perché siamo in ritardo sulla politica verso le elezioni regionali come dicevamo Ceriscioli va da Zingaretti a Roma Zingaretti che però non lo benedice il segretario nazionale dei DEM ha incontrato il governatore uscente per decidere sulla candidatura dopo i dubbi del partito insomma prima c'è stata una telefonata quella classica a fine dicembre per farsi gli auguri di buon anno nuovo poi l'occasione è stata anche quella di darsi un appuntamento ieri c'è stato questo faccia a faccia il governatore Ceriscioli è andato quindi nella capitale un confronto schietto con il segretario nazionale del PD Zingaretti che ha voluto capire però direttamente dal suo presidente in carica lo scenario che si sta vivendo in regione beh insomma Zingaretti possiamo immaginarlo ha preso appunti si è fatto spiegare un po' le varie situazioni i vari scenari ha voluto sapere anche chi è il contendente del centrodestra che per ora è ancora Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia ma anche lì bisognerà capire se se alla Lega starà bene oppure no ma alla fine dopo insomma questa chiacchierata Zingaretti è arrivata una decisione quella che la questione si deve risolvere praticamente in casa cioè in ambito marchigiano senza alcuna influenza della segreteria nazionale anche perché in questo caso si inficherebbe commissionare la guida marchigiana del partito democratico insomma della serie sbrigatevela voi ed è molto però preoccupato Zingaretti così titola il corriere adriatico per le marche Zingaretti mette all'angolo Cerisciole il leader del PD incontra il governatore la tenuta del centrosinistra e l'alleanza con il Movimento 5 Stelle sono dunque a forte rischio andiamo invece adesso ad Orciano dove il Carlino questa mattina racconta di due storici donne cioè sacerdoti che si ritrovano dopo tanti anni di nuovo insieme e dove in una casa di riposo per ben 52 anni hanno vissuto nella stessa canonica quindi al lavoro facendo appunto svolgendo la loro missione l'uno a fianco all'altro e ora dopo alcuni anni di separazione sono stati sono di nuovo insieme di chi stiamo parlando stiamo parlando di Don Antonio Secchiaroli 91enne e Don Ennio Grandoni che di anni invece ne ha 90 sono sacerdoti di Orciano siamo nel Pesarese che sono stati insieme hanno lavorato insieme per oltre mezzo secolo fino al 2008 poi Don Antonio che aveva un po' di problemi alla vista allora aveva 79 anni optò per la meritata pensione quindi si rettierò nella casa del clero a Fano mentre Don Ennio proseguì le sue funzioni di pastore fece il vice parroco per altri 10 anni fino al 2018 fino al 3 ottobre del 2018 poi lui fece ingresso alla casa di riposo di Orciano Merlini Ciavarini Doni ed è proprio qui che da una manciata di giorni è arrivato da Fano anche Don Antonio quindi si sono ritrovati e adesso sono come vedete insieme tutti e due in una sedia vicino all'albero e adesso a raccontarsi un po' del più e del meno acquista un'auto online però era una truffa denunciata a piede libero due donne di Viterbo e Latina hanno ottenuto 990 euro da un operario di Montecchio che le aveva credute e quindi però ha capito alla fine che era una truffa velocemente sempre da Urbino centro Avis ipotesi autogestione carenza di personale al trasfusionale di Urbino medici volontari in aiuto per la raccolta di sangue a Sasso Corvaro c'è un'idea che però è bocciata dall'Asur ma i donatori spingono invece per il sì crescono i rumors sulla delocalizzazione del servizio a Pesaro dalla Valle del Cesano terre roveresche stanziati fondi per le strade il via lavori per la sicurezza il finanziamento di 127 mila euro meno velocità veicolare in via Papa Giovanni XXIII mentre sempre dalla Valle del Cesano la ciclovia delle alte marche per chi ama il turismo in bici itinerario di 198 km con il traguardo dei tre monti che sono il Nerone il Petrano e il Monte Catria da Senigallia nuova ciclabile fino a Marzocchia via libera della giunta al progetto lungomare da Vinci Mangialardi parla agli operatori e ai residenti la strada troppo stretta per lasciare il doppio senso i resti dei regali di Natale abbandonati in via Pioli a Senigallia una vera discarica abusiva che è stata smaltita da tre donne residenti nella zona e questa era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa che dunque termina qui grazie come sempre per la vostra attenzione noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia grazie come sempre per la vostra per la vostra pazienza ieri abbiamo avuto qualche problemino con la messa in onda oggi stiamo già risolvendo li stiamo già risolvendo insomma speriamo alle 8.30 questa sera alle 20.30 di vederci puntuali sul canale 17 però vi ricordo che abbiamo sempre on demand cioè a disposizione in qualsiasi momento voi lo vogliate i nostri canali social internet dove le produzioni di Fano TV sono sempre disponibili quindi la rassegna stampa il telegiornale gli speciali qualunque cosa lo trovate sempre sul nostro sito internet occhio alla notizia punto it buona giornata a tutti e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti